bene carissimi allora prendiamo mano la tentazione stavo facendo il penultimo capitolo dedicato alle tentazioni della chiesa abbiamo visto per amici come c'è un'intima connessione fra le tentazioni di gesù e che ha subito gesù è quella che subisce la chiesa nel corso della storia proprio per l'intima con l'intima unione che sia fra gesù e la chiesa cioè gesù vive nella chiesa la chiesa è il prolungamento di gesù nella storia quindi come è stato tentato gesù con tentazioni ben precise sono tentazioni che hanno cercato di sviarlo con cui satana ha cercato di sviare gesù dalla sua missione che è la missione della croce attraverso la quale salvare le anime c'è la missione di regio qual è la missione di gesù il compito di gesù la missione che il padre gli ha segnato è quella di salvare il genere umano dalla morte dal peccato e dall'impero delle tenebre cioè da satana queste sono le motivazioni di fondo che emergono dalla sacra scrittura dell' insegnamento della chiesa ribadito nel catechismo della chiesa cattolica e appunto satana ha cercato di sviare gesù fin dall'inizio dalla via del messianismo sofferente del messianismo crocifisso dalla via dell'umilazione della persecuzione e gli ha indicato invece la via larga del successo mondano la medesima cosa cerca di fare satana nei confronti della chiesa cerca di sviare della via che cristo gli ha segnato la via della croce la via dell'umiltà la via della manegazione la via della persecuzione la via dell'amore crocifisso per cerca di sviarla da questa strada e da questo obiettivo per cui la chiesa è stata fondata da cristo che è la salvezza eterna delle anime cerca di sviarla attraverso la mondanizzazione attraverso il modernismo attraverso la secolarizzazione in modo tale che la chiesa diventi un elemento di questo mondo questa è la tentazione di fondo che satana rivolge alla chiesa di tutti i tempi anche nel nostro tempo e quindi vigilate pregate conserva la sua assoluta attualità ora vediamo le tentazioni di gesù applicate alla chiesa cioè la tentazione di trasformare le pietre in pane poi la tentazione del facile consenso con la gente di giù dal tempio dal pinacolo del tempio gli angi ti sorreggeranno la gente crederà la tentazione del facile consenso della quale spesso cadiamo anche noi oggi la tentazione delle sicurezze mondane non dico che la chiesa oggi non è più certamente al tempo della lotta per il primato del papato sull'impero certamente però può essere tentata di avere più fiducia negli appoggi mondani che nella divina provvidenza è una tentazione e poi naturalmente l'ultimo capitolo è la chiesa un unico modo per uscire vittorioso dalle tentazioni quella di seguire la via della croce che prima di lei ha seguito il suo maestro allora oggi vediamo la prima tentazione la tentazione di trasformare le pietre in pane di fatti cerchiamo di credere la tentazione la sua radicalità cioè con questa tentazione l'uomo con questa tentazione il falso pietismo di satana da da mangiare gli affamati no sappiamo quanto gesù fosse sensibili alle sofferenze fisiche ha perfino moltiplicato i panni e i pesci per sfammare la gente però con la gente aveva lasciato tutto per ascoltare la parola di dio quindi aveva aveva messo in pratica quello che gesù ha affermato cercate prima il regno di dio tutto il resto vi sarebbe adesso ora più il tentativo di satana è quello di fare del pane il problema principale dell'uomo ma l'uomo non ha come suo problema principale il pane l'uomo ha come ha come suo problema principale il senso della vita perché l'uomo non è un animale cioè poche parole come di mettere il problema economico al primo posto significa in fondo fare il gioco di satana che vuole dimostrare che l'uomo è un animale un animale quindi ha fame di pane in realtà l'uomo non è un animale che ha fame di pane e anche certamente un corpo che ha bisogno di essere nutrito eccetera eccetera ma è soprattutto un'anima che affamata di dio e quindi la tentazione di fare diciamo così la tentazione che anche la chiesa a cui la chiesa è soggetta e cioè perdere di vista che il suo compito certamente è quello di alleviare sofferenze umane perché come ci sono detto avevo fame mi desse da mangiare quello che avete fatto uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me però indubbiamente a queste medesime persone bisogna dare il pane della parola di dio il pane dell'amore di dio il pane della grazia di dio e soprattutto la prospettiva della vita eterna allora vediamo questa prima tentazione a pagina 176 del nostro libro la tentazione di trasformare le pietre in pane gesù avrebbe potuto trasformare le pietre in pane come satana gli incitava a fare certamente e avrebbe sfamato migliaia di persone certamente poiché aveva già sfamato o avrebbe sfamato migliaia di persone con cinque panni e due pesci se tuttavia avesse ascoltato il tentatore non è difficile immaginare quali sarebbero state le conseguenze per l'opera della salvezza speriamo che gesù avessi veramente trasformato il pietre in pane fra le tentazioni messianiche la prima messianiche perché attraverso di esse satana cerca di indirizzare il messia verso un faso messianissimo che è quello del diciamo così del trionfo mondano fra le tentazioni messianiche la prima è la più attuale ma anche la più insidiosa è vero che gesù ha sfamato le folle però lo ha fatto dopo che essi avevano abbandonato le loro quotidiane occupazioni per ascoltare la parola di dio cioè la gente che aveva abbandonato il lavoro la casa per ascoltare la predicazione di gesù meritava il miracolo come ha detto gesù cercate prima il regno di dio tutto il resto di stravate in sovrappiù gesù personalmente si è chinato sulla sofferenza umana guarendo i malati calciando i demoni e persino risuscitando i morti essendo lui stesso povero ha beneficiato i poveri e ne ha proclamato la beatitudine gesù era povero non dimentichiamolo nella sua persona si manifesta la compassione di dio per la fragilità della carne minacciata dalla fame dall'intemperie dalle malattie e dalla morte quindi gesù certamente si è chinato sulle sofferenze fisiche della persone sulla loro malattia sulla loro fame e anche sulla loro morte i vangeli traboccano di umanità e non c'è miseria sulla quale il figlio di dio non abbia posato i suoi occhi misericordiosi è arrivato addirittura a toccare un lebroso cosa che era ritenuta una assolutamente inconcepibile per la mentalità del tempo il cristianesimo pronunciando la vita eterna si è costantemente impegnato a migliorare la vita degli uomini sulla terra cioè sappiamo che molti conquisti dell'occidente dagli ospedali alle scuole alla cura delle malattie più tremende insomma tutte le forme dello stato sociale oggi sono nata come sapete dall'iniziativa della chiesa dei santi il vangelo è stato ed è anche oggi la più potente forza di umanizzazione di tutti i tempi lo stesso giudizio finale riguarderà l'amore del prossimo bisognoso nel quale gesù è presente quindi non c'è dubbio che la compassione della pietà è stata una delle tematiche della predicazione ma anche della vita stessa di gesù una delle sue parabole più belle proprio del buon samaritano tuttavia non è questo il fine per cui il figlio di dio è venuto in questo mondo cioè gesù non è venuto in questo mondo per darci da mangiare sì è venuto in questo mondo per darci da mangiare la parola di dio e ci ha detto che se mangiate la parola di dio avrete quella del pane in abbondanza come ha detto anche recentemente la regina della pace qualche anno fa ha detto per natale se accoglierete il re della pace questo secolo sarà un secolo di prosperità e di pace dunque però tuttavia la prosperità non è il fine per cui il figlio di dio è venuto sulla terra la salvezza che gli realizza dimensioni infinitamente più grandi perché la misera dell'uomo non si limita a quella del corpo se va benissimo che la misura delle persone che soffrono nel corpo e sono felici nel cuore persone che stanno benissimo nel corpo e sono disperate quindi la misera dell'uomo non si limita a quella del corpo ci sono anche le malattie spirituali il peccato è un cancro più devastante del cancro fisico gesù è venuto in primo luogo a liberare l'uomo dalla schiavitù del maligno che la teneva che lo teneva sotto il suo potere questo è il primo obiettivo di gesù liberarci dal grande dittatore dal potere delle tenebre dall'impero della morte e lo ha fatto prendendo su di sé i peccati del mondo e spiandoli al nostro posto e per amore nostro quindi gesù è venuto per liberarci dal potere del maligno dal potere del peccato per ridarci la dignità la gioia la grazia dei figli di dio e nel medesimo tempo per amici per alleviare tutto intero l'uomo che è fatto di anima e di corpo così gesù ci ha riconciliati con dio restituendici la sua amicizia e donandoci la grazia dalla vita eterna naturalmente noi queste cose qui le dispreziamo perché siamo dei ciechi ma la pace del cuore l'amicizia di dio il suo amore la sua luce la sua sapienza la gioia e la speranza della prospettiva della vita eterna sono beni beni inestimabili cari amici certamente molto più importanti di cumuli d'oro o di denaro perché loro il denaro alla fine non è che ti dia la felicità ma i beni spirituali te la danno la felicità e costano niente però gli uomini non li cercano perché perché sono accecati quella di gesù è una liberazione così straordinaria che non potremmo immaginare una liberazione più grande abbraccia l'uomo nella sua interezza nel suo corpo e nella sua anima sul piano naturale su quello soprannaturale nella dimensione del tempo e in quella dell'eternità cioè gesù è venuto per salvare tutto l'uomo e nella sua vita terrena e soprattutto nella sua dimensione eterna gesù conosce a fondo l'essere umano quando afferma non di solo panni vivrà l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di dio arriverà l'uomo la sua grandezza divina cioè l'uomo è più è assai più di un animale da sfamare da vestire da curare e da estruire in lui c'è una fame che supera quella del pane lo sappiamo anche noi che non siamo felici solo perché abbiamo soddisfatto i desideri della carne chi di voi cari amici può dire di essere felici perché ha fatto un ottimo pranzo o perché ha fatto un grande guadagno ma io ho visto molte persone felici quando ho ricevuto la soluzione nella confessione l'astuta serpe vuole ridurre l'uomo un pugno di polvere vuole che pensi dimessamente di se stesso e non guardi oltre l'orizzonte della materia già l'apostolo paolo aveva parole di fuoco per coloro che hanno come dio il loro ventre tutti intenti alle cose della terra tuttavia solo i nostri giorni con l'espandersi della cosiddetta civiltà dei consumi il materialismo è diventato un modo di concepire la vita che si estende a livello planetario la cura del corpo è posta al di sopra di ogni preoccupazione come se la persona umana non avesse altre dimensioni di cui farsi carico la salvezza venerebbe dalla produzione dei beni materiali con i quali debellare la fame e dalla scienza con la quale eliminare le malattie allungare la vita in questa prospettiva quale sarebbe il fine dell'esistenza forse quello di mantenere il più possibile in vita una realtà che comunque è destinata a diventare un cadavere il corpo ha la sua importanza ma non è tutto l'uomo e la sua parte peritura il pari necessario ma non è l'unica necessità la fame di dio è molto più importante l'inganno satanico consiste nell'assolutizzare la dimensione terrestre dell'uomo oscurando la sua dimensione divina cioè l'inganno satanico consiste nel fare le fatti ma tu le vedi cioè tu questo lo vedi nella vita quotidiana guarda che le persone per un osso si accapigliano per un euro si ammazzano ma per i beni spirituali ce ne neanche riguardano neanche riguardano è una vita è una è una forma di perversione di degradazione di se stessi satana gioco su questo inganno cioè facendo dell'uomo un essere terrestre animalesco satana gioco su questo inganno per diffondere quelle funeste ideologie del male di cui testimoni il nostro tempo infatti il mistero di iniquità come dice il catechismo della chiesa cattolica numero 675 si rivela sotto forma di un'impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi a prezzo dell'apostasia della verità cioè evidentemente molti oggi e l'abbiamo sotto gli occhi hanno abbandonato la verità e la salvezza di cristo affascinati da dal falso messianismo di un mondo che ti dice ti ti diamo noi la felicità qui su questa terra dai adesso poi che c'è invece la fine della vanità in deficit forse qualche ripensamento ci sarà la fine della vita comincia a fare acqua non è che non è che sono contento di questo tutt'altro però magari pensiamo un po di più a certi beni che abbiamo disprezzato forse li riscopriamo adesso si tratta come dice il catechismo della chiesa cattolica di un messianismo secolarizzato e intrinsicamente perverso che promette la salvezza e la felicità nell'orizzonte terreno come progetto che l'umanità stessa è chiamata a realizzare oggi su certi giornali leggevo che prima o poi si venirà per lavorare fino a 70 anni ecco dopodiché non so io vogliamo o non vogliamo discutere se seriamente se non sia una grande fregatura una grande impostura un grande inganno quello della mentalità dominante che ci dice che su questa terra che il fine della vita è su questa terra e che su questa terra c'è il paradiso intanto lavora fino a 70 anni guarda arrivi neanche alla pensione così questa è la vita è la vita dell'uomo ridotto a un pollo d'allevamento con i polli non lavorano è lì fatto ma noi lavoriamo pure loro mangiano poi vengono spennati noi lavoriamo e poi veniamo spennati anzi veniamo spennati tutta la vita ma anche se non fossimo spennati a cosa serve ingrassare ditemelo voi non guardate con la vita che viene dalla polvere e termina dalla polvere i conti non tornano non tornano l'ateismo materialismo sono un inganno satanico un inganno satanico che 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 rende miserabile la vita e la porta alla perdizione eterna la storia degli uomini negli ultimi due secoli ha visto affermarsi queste utopie terrene che si sono imposte scatenando le più violente persecuzioni che la chiesa mai conosciuto nel corso del suo millenario pregrinaggio nel tempo il progetto satanico di ridurre l'uomo un animale si accompagna costantemente con l'insofferenza verso il cristianesimo e la violenza contro la chiesa che difendono la dimensione divina della persona umana l'astuta serpe si presenta come il buon samaritano che a cura delle sofferenze dell'uomo salvo poi a costruire l'inferno sulla terra ogni volta che promette di realizzare il paradiso l'astuta serpe si presenta come il buon samaritano l'astuta serpe l'ateismo materialistico l'ateismo pratico la concezione mondana della vita allora e questo è l'inganno satanico si presenta questa ideologia come il buon samaritano che risolverà i problemi del mondo intanto però ci fa lavorare tutta la vita ci sperna per tutta la vita ci fa soffrire per tutta la vita e dopodiché ti dice che farà della terra un paradiso si camperà sempre si viverà fino a 150 anni eccetera eccetera intanto però tu vai sotto terra ma io mi chiedo come si fa a bere queste panzane anzi come si fa a vivere di queste panzane veramente la madonna nel suo messaggio cosa ha detto ha usato le parole liberatevi da tutto ciò che vi ha condotto nell'inganno e nella tenebra liberatevi da tutto ciò che vi ha condotto nell'inganno e nella tenebra cari amici la tattica del tentatore non si limita ad attaccare la chiesa dall'esterno ogni volta che l'ha fatto ha rischiato di trovarsela davanti più forte più agguerrita è molto più utile a sferrare l'attacco dall'interno io queste pagine che l'ho scritte un anno fa e quindi il papa in qualche modo a fatima mi ha confortato mi sono confortato io sentendo il papa perché lui stesso ha detto che gli attacchi più tremendi e più pericolosi sono quelli dall'interno è molto più utile sferrare secondo satana ritiene molto più di sferrare l'attacco dall'interno con la propagazione di mezzi verità e di false dottrine che diffondendo si descretano le fondamenta e paralizzano le difese la chiesa del nostro tempo è senza dubbio sottoposta a questa tentazione capito trasformare i pietri in pane cioè dedicarsi soltanto alla ai bisogni intramondani dell'uomo la chiesa del nostro tempo è stata senza dubbio sottoposta a questa tentazione parlo di tentazione che sia caduta però è una tentazione da cui guardarsi che l'ha indebolita e l'ha resa meno efficace nella testimonianza della verità come il sale che perde il suo sapore si tratta di quale tentazione cari amici di mettere in primo piano i bisogni terreni dell'uomo lasciando sullo sfondo quelli propriamente spirituali a riguardo rene girard che un autore che conoscete molto bene un cattolico straordinario per cultura ma anche per sensibilità spirituale ha scritto in un'intervista fatta al foglio proprio nel marzo del 2007 ha detto nel cattolicissimo d'oggi c'è troppa sociologia non sentiamo che delle prediche la chiesa è troppo spesso compromessa con le lusingue del tempo e il modernismo scrivere ne girard in un certo senso i problemi sono iniziati con il concilio vaticano secondo ma risalgono alla precedente perdita della scatologia cristiana la chiesa non ha abbastanza riflettuto su questa trasformazione come giustificare la totale eliminazione della scatologia persino nella liturgia voi sapete cari amici che la vera reazione a questa caduta di tensione verso l'alto l'ha fatto la madonna regina dalla pace a meggiugorie dove il richiamo al cielo e il richiamo alla vita come cammino verso l'eternità la madonna ci ha ricordato infinite volte che il cielo è la meta a cui dovete tendere e per me due volte ci ha ricordato che il nostro corpo marcisce sotto terra capito questa parola eh ci ha ricordato un paio di volte che il nostro corpo marcisce sotto terra e ci ha mostrato l'inferno il paradiso del purgatorio cioè è venuto a restaurare la visione dell'uomo nella sua prospettiva eterna l'analisi di René Girard può apparire troppo severa ad alcuni ma è sotto gli occhi di tutti ad esempio che la predicazione e la catechesi sui novissimi ha cevuto il terreno a problematiche di corto raggio che riguardano la dimensione terrena della vita lasciando nell'ombra il fine ultimo e irrinunciabile che è la salvezza eterna dell'anima le tematiche fondamentali della spiritualità cristiana come la fede e la preghiera la grazia e il peccato la conversione e combattimento spirituale la perseveranza finale e la vita eterna sono passati in secondo piano come se il fine della vita fosse il benessere terreno tra l'altro non si preparano neanche più le persone alla morte che è l'ingresso nell'eternità quindi attenzione la chiesa rischia di essere banalizzata e ridotta da associazione benefica la tentazione già il bife ha fatto questa denuncia tanti anni fa cioè la chiesa ridotta a una a una componente della croce rossa la tentazione è sottile e le conseguenze disastrose molte persone muoiono senza sacramenti e senza la dimensione dell'eternità l'importante secondo la mentalità del mondo e che muoiono senza soffrire e senza accorgersene io me lo ricordo lo sento nelle conversazioni al bar è morta ha sofferto no no è morta senza accorgersene abbe allora capito io dico e sa che ma sapete che c'è rimasto quasi niente di cristianesimo nella nella nel quale delle persone non c'è rimasto quasi niente di cristianesimo sono ritornati animali selvaggi come erano prima di che venisse il cristianesimo a volte c'è questa sensazione forse questo mondo non è mai stato neanche cristianizzato salvo poche minoranze forse questo mondo deve diventare ancora tutto cristiano è quello che è qui la madonna questo tipo di mentalità penetra come un veleno mortale nelle comunità cristiane che hanno smarrito la dimensione trascendente dell'esistenza umana adesso Gesù rivolge sul severo monumento quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita mettiamo vita ma in realtà la propria anima sarebbe la vera traduzione il fine della redenzione operato ma Gesù Cristo dunque la salvezza eterna delle anime questa è anche la missione della chiesa che è lo strumento che il figlio di Dio ha istituito per realizzare l'opera della redenzione lungo lungo tutto il corso dei secoli salus animarum suprema lex ripeto non è tanto difficile salus animarum suprema lex che vuol dire la salvezza delle anime e la legge suprema della chiesa e la legge che governa e regge e governa la chiesa satana opera per oscurare questo obiettivo cercando assolutamente di fare della chiesa un grande movimento storico una complessa e solida istituzione sociale forse una sorta di agenzia umanitaria sapete che ha detto queste parole ben evento sedicesimo nella regina celi della pentecoste del 2009 cioè la tentazione della chiesa l'obiettivo di satana qual è ha detto ben evento sedicesimo nella regina celi della pentecoste del 2009 fare della chiesa un grande movimento storico una complessa e solida istituzione sociale un movimento forse una sorta di essenzia umanitaria una volta che l'obiettivo dell'eternità è meno e ben fermo davanti agli occhi della chiesa non solo non verrà meno l'attenzione per i bisogni materiali dell'uomo la malattia la fame l'istruzione tutto ciò che riguarda la promozione umana ma al contrario anche l'impegno umanitario acquisterà una intensità ancora maggiore come dimostrano i santi come dimostrano su tutti i nostri occhi per esempio le suole di madre teresa infatti lo sguardo soprannaturale che mostra gesù presente in ogni essere umano in particolare il più bisognoso di cure moltiplica le energie fino all'eroismo come dimostra anche nel nostro tempo la testimonianza di innumerevoli santi e così cari amici abbiamo messo in luce questa tentazione di trasformare le pietre in pane e di trasformare l'uomo in un animale e la chiesa come detto benevento cedicesimo in una sorta di agenzia umanitaria una tentazione dalla quale dobbiamo guardarci cari amici tenendo sempre presente la dimensione dell'uomo immagine di dio creato per l'eternità e il fine della sua vita che è appunto la vita eterna grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti